Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, sempre pronto, come sempre, il caro Giuseppe Franco, che saluto! Sempre pronto, sempre squilibrato in questo mese dedicato all'oversubscribed, cioè al tutto esaurito, io ti saluto, la cravatta è qui, è ancora squilibrata e dimmi che cosa hai in pentola. Bene, allora, la settimana scorsa abbiamo parlato dei quattro elementi per generare uno squilibrio nel mercato, abbiamo parlato dell'innovazione, delle relazioni, della funzionalità, del rendere tutto più semplice in modo tale che il cliente direttamente possa comprare e così via. In questa puntata, nello specifico, scendiamo nel concetto di ecosistema, perché l'ecosistema per creare valore, sostanzialmente. Perché l'ecosistema è importante e fondamentale? Perché molto spesso le cose vengono viste in maniera singolare, cioè gli aspetti, ad esempio, di una strategia di marketing vengono visti in maniera singola, presi uno alla volta ed esaminati uno alla volta. E questo è il grande errore. Ad esempio, ieri ero con un cliente con il quale stavamo discutendo della campagna di marketing e lui fa una serie di attività. L'attività di Google Ads, poi abbiamo Google My Business, che cura Cinzia, per fare in modo che quando qualcuno cerchi sul territorio, lui vende acciaio, insomma, si occupa di acciaio, ci arrivano tantissime telefonate dal Google My Business. Poi ottimizzazione del sito, lui poi fa molto personal branding, insomma, lo seguiamo su tutta una serie di aspetti. Ha costruito un ecosistema e l'azienda, lui, è felicissimo perché vende tantissimo. Ah, ma la domanda è, cos'è che sta funzionando? Cioè, cos'è che gli porta veramente la richiesta del preventivo? La campagna Ads? Google My Business? Il fatto che lui di tanto in tanto vada su LinkedIn e faccia un video? O qualsiasi altra cosa? In realtà è tutto insieme, perché lo dico sempre, perché magari una persona ha visto l'annuncio, non so, che è venuto fuori su Google oppure su Facebook, l'ha totalmente ignorato, però nel frattempo ha visto il nome dell'azienda. Poi se l'è ricordato dopo una settimana, non è andato a nessuna parte, semplicemente è andato su Google, ha scritto il nome dell'azienda ed è venuta fuori la scheda di Google My Business. Attraverso la scheda di Google My Business ha cliccato sul numero di telefono, ha chiamato in azienda, ha fatto il suo ordine. Quindi che cosa ha funzionato? Ha funzionato tutto l'ecosistema ed è quello che è fondamentale. Io ho, e poi lascio a te la parola caro Giuseppe, ma qui entriamo in un discorso che ti è più familiare, sei più felice, perché devi sapere che mia moglie è una fan di Jamie Oliver, che è quel famoso cuoco, che è inglese, mi sembra che cucina mettendo mani a tutte le parti, quando lo vedi inguacchia tutto, quasi potrei essere io Jamie Oliver quando cucina, ma intanto lui da dove fa soldi, cioè dove guadagna? Dagli show televisivi, dai libri delle ricette, dalle sponsorizzazioni dei suoi mercati, dalle sue catene di ristoranti, la cosa fa? Nel frattempo comunque poi tu vai a vedere che lui magari pubblica gratis su Twitter, regala un sacco di ricette gratis con il suo blog, fa delle presentazioni gratis, magari è andata al TED oppure è andata da un'altra parte, cos'è che poi lo fa guadagnare? Soltanto quello o anche questa roba qui, perché poi la gente lo scopre, vedi che è un tipo simpatico e quindi poi alla fine va a comprare il suo libro e quindi dal libro va al ristorante o viceversa? Cioè cos'è che poi funziona a te Giuseppe? Ma guarda, intanto devo fare subito uno spoiler, come dicono quelli bravi, praticamente io ho insegnato io a cucinare a Oliver, quindi si sa. Non avevo dubbi. È così, soprattutto nelle fattezze, nei movimenti e tutto il resto. Quello che c'è, e che tu stai dicendo che è la parola proprio che rientra nel discorso ecosistema, voglio offrire a chi ci sta ascoltando un'immagine che è quella di immaginare come appunto avere una stanza. Ok? Una stanza dove entra, può passare. In questa stanza c'è una porta, un ingresso diciamo, un ingresso da un lato e un'uscita dall'altro. Quindi immaginiamo questa sorta di scatola, di stanza, come vogliamo noi. Nel momento in cui noi dobbiamo considerare che una persona passa da un lato all'altro, quindi c'è un attimo dove passa, da un entra, quindi si trova in questo spazio vuoto e poi esce dall'altra parte. Ora tu dirai, ma tutto questo perché? Perché questo spazio spetta a noi arredarlo nel migliore dei modi. Spetta a noi creare un ecosistema in cui le persone, quando passano, sono più attratti. Io posso decidere di passare e dedicare uno spazio soltanto al pavimento, che è bello il pavimento, e dimenticarmi delle pareti. Posso fare invece pavimento e pareti e dimenticarmi invece di un ottimo lampadario, e via dicendo, dei quadri, eccetera. Più elementi ci sono all'interno di questa stanza, più è possibile che le persone intanto si sentano coinvolte. Ognuno trova il suo elemento che preferisce. E il nostro cuoco della situazione dove lui, attraverso questo spazio, riesce a, non dico con il suo modo di fare, però insomma, trova tutti quei punti di contatto che può creare. Lui riempie al massimo questa stanza con più contatti possibili. E questo è quello che dobbiamo fare. Sicuramente lui l'ha fatto nel suo modo, nel suo modo di fare, che è quello il suo spazio. Però, secondo me, è bravo ad arredare, per utilizzare un termine, o a sporcare con la farina, non so se posso dire così, cioè riempire di farina questo spazio, ma quella farina che piace a chi interessa quel tipo di prodotto. Ma è proprio così, perché in realtà nessun singolo aspetto funziona bene da solo. Ma tutti funzionano insieme, cioè ecco perché il concetto di ecosistema. Quindi il lavoro di chi ci sta ascoltando in questo momento è quello di riuscire a creare proprio questo ecosistema, cioè che fornisca un'esperienza positiva al potenziale cliente, ma anche al cliente. E faccia soprattutto in modo che le persone tornino più e più volte. Ed è un po' anche quello che faccio io, che fai tu, no? Con il nostro blog, con gli articoli che scriviamo, con i video che produciamo, con magari gli ebook che regaliamo, con la nostra presenza sui social, con i consigli che diamo. C'è tutta questa roba qui. E tantissimo, cioè noi, io, tu, ma anche tantissime altre persone come noi fanno questo tipo di mestiere, in realtà regalano e regaliamo tantissime informazioni gratis e sembra che tutto questo sia un enorme e grande spreco di tempo, ma in realtà non lo è mai, perché poi ci accorgiamo, te ne accorgi tu e me ne accorgo io, che arrivano clienti che magari dicono ah, fantastico, ascolto il podcast da più di un anno, oppure ho visto i tuoi video, Giuseppe, sul parlare in pubblico, come parlare in pubblico e così via, e ora sono pronto per avere magari una tua consulenza e sono anche pronto per pagarti. E invece c'è gente che ancora sta lì arroccata in concetti come, non so, il mio prodotto è di grande valore e di qualità e quindi mi aspetto che venga, che di essere pagato e basta, non voglio perdere tempo. Oppure quelli che dicono, non so, che mettersi a scrivere i social media è soltanto uno spreco di tempo e loro devono soltanto pensare al business oppure che non me ne vengono altri in mente, insomma, e tutta questa roba, cioè che tutto questo è una perdita di tempo. Ma perché, appunto, perché vanno a snobbare questo aspetto, non capiscono che fa parte esso stesso di questo business, è quello il fatto, che fa parte proprio di quello che dicevi tu. Un elemento che aggiungo a quello che raccontavi sull'ecosistema, poi magari citiamo qualche elemento per capire quale potrebbe essere, però una cosa che racconto io è che mi capita, attraverso l'ecosistema mio personale, per esempio quello dei video, mi capita più volte che io parlo con un cliente che si approccia a me, insomma, che si è candidato per una consulenza, eccetera, quando parliamo mi è capitato, non tantissimo, però qualche volta che mi dice, ma sai la cosa, io conosco, so tutto di te, tu però non mi hai mai visto. Questa frase mi rimane sempre così, cioè mi fa sorridere, perché è esattamente così. Io sono familiare per quelle persone perché mi vedono, magari io racconto qualcosa di me attraverso i video, potrebbero essere gli audio, eccetera, e io non so nulla di quella persona perché non la conosco, però quell'elemento, oltre all'ecosistema, si riallaccia a quello che dicevamo nella puntata precedente, che è l'elemento di relazione e di familiarità, quindi tutto ha un senso in questo ecosistema di cui stiamo parlando e proponendo. Ma è proprio così, il problema qual è? Che le persone ancora oggi, nel 2021, credono che l'informazione abbia un valore, mentre oggi come oggi l'informazione non ha più nessun valore, cioè, mentre negli anni 80, 90, reperire informazioni era complicato, cioè avere l'informazione su un prodotto, avere l'informazione sul migliore TV color, all'epoca si parlava del TV color, la televisione, no, la migliore televisione da acquistare, uno stereo da casa da acquistare, non so, l'automobile, la descrizione tecnologica dell'automobile, cioè avere le informazioni negli anni 80, ma anche negli anni 90, quando internet, insomma, non c'era ancora, in Italia soprattutto, era praticamente difficile, complicato, quindi quello che si vendeva all'epoca era proprio l'informazione, quindi magari si compravano, non so, le cassette con i corsi, si compravano tutta questa roba qui perché si aveva l'ansia di avere informazioni. Oggi il concetto è completamente invertito, cioè oggi nel 2021 possiamo dire che l'ansia è quella di avere troppa informazione e non saperne cosa fare, cioè non avere proprio il tempo di riuscire a gestire tutta questa informazione, quindi oggi il valore è un altro, oggi bisognerebbe regalare idee, cioè nel senso ti do questa idea, ti do questa informazione, ti regalo questo nuovo concetto e poi farsi pagare per l'attuazione, quindi ti regalo un'idea e poi mi faccio pagare per l'attuazione di quell'idea. Cosa vuol dire in termini così più pratici? Vuol dire che nel mio caso specifico di Massimo Petrucci con sedette agency che mi occupo di web marketing, automation, regeneration, copywriting e così via, io potrei andare sul web, cioè vado sul web ed è quello che faccio e ti dico per organizzare meglio il tuo email marketing, il tuo sito e così via, quello che è molto importante è la marketing automation perché devi fare in modo che quando una persona arriva sul tuo sito questa persona venga riconosciuta, devi prendere nota di tutto quello che fa questa persona sul tuo sito in modo tale che quando poi gli manderai una mail, non gli mandi una mail qualunque, su un argomento qualunque, ma gli mandi una mail su uno specifico tema in modo tale da portarlo a comprare oppure alla conversione, eccetera, eccetera. Questa è l'idea. È chiaro che per attuare questa idea io mi faccio pagare, però ti metto nella testa un'idea buona, ti dico come potresti risolvere un problema oppure come potresti aumentare le tue performance di vendita e a quel punto però per l'attuazione due sono le cose, o tu ti metti lì a smanettare e trovi il modo di farlo e magari sei affogato dalle migliaia di informazioni che trovi su YouTube, Facebook e tante altre cose oppure semplicemente dici ma io mi fido di questo tizio, io mi fido di Massimo Petrucci che mi ha dato tante informazioni utili, ho letto anche il suo libro, quasi quasi lo contatto e dico senti ma mi fai un preventivo per mettere su tutta questa roba? Quindi oggi nel 2021 quello che bisognerebbe fare è regalare idee e farsi pagare per l'attuazione. Cosa ne pensi? Guarda, apri non una porta, un superportone perché mi veniva in mente il discorso che ovviamente io lo dico non è che sia sai perché c'è sempre la gara a chi ne sa di più io non è che sono un imprenditore milionario e tutte quelle robe lì insomma non so dove si vive adesso dove va di moda quando sei figo non mi ricordo non lo so io sono rimasto a Dubai ma l'ultimamente a Dubai a farsi le foto insomma vabbè è una misera partita IVA però voglio dire quello che voglio dire di questo noi adesso che tu dicevi non abbiamo informazioni non siamo detentori di informazioni allora mi invito soprattutto tutti coloro che ancora non stanno facendo questa cosa le informazioni che avete in tasca non servono a nulla zero zero cioè quando io vado a scuola studio e che è importante attenzione acquisisco delle informazioni io devo parlare di quelle informazioni soltanto per far sapere in questo ecosistema che ci sono anch'io poi la differenza la faccio io nel modo di raccontarle io con l'esperienza faccio un esempio su di me ancora così non offendo nessuno io so di public speaking conosco queste cose sì lo faccio da tantissimi anni ho allottato con questa cosa sono più di vent'anni ne so probabilmente sì sono l'unico che dico delle cose originali guarda posso fare un notizio uno scoop no no per niente perché io non penso di sapere qualcosa che gli altri non sappiano chi fa il mio mestiere la differenza però qual è la differenza che le persone intanto si avvicinano a me per il mio modo di fare per il mio modo di interpretare ecco per me adesso un professionista o chi per lui è un interprete cioè se io faccio un esempio per esempio con la giurisprudenza una legge come funziona non la puoi trovare anche tu Massimo che non hai studiato giurisprudenza o io la possiamo trovare tutti quella legge allora l'avvocato che cosa fa sta in silenzio non dice quella legge lì che cosa ha niente zero la differenza invece la fa l'avvocato con la sua esperienza nella sua interpretazione di quel tipo di legge in base al contesto una persona che viene a me a parlare in pubblico riconosce in me una certa sensibilità una certa esperienza quindi io dico senti per te Massimo che devi parlare in pubblico devi utilizzare questo modo di comunicare è quella la differenza quindi tutto questo tenersi in tasca probabilmente è un esercizio inutile e siamo impacchettati in un sistema che forse fa parte degli anni 80 hai ragione tu ma che non serve propriamente a nulla ma è proprio così la gente sta ancora lì a pensare che se tu dai informazioni poi gli altri utilizzano queste informazioni gratis per cui non è così non è per niente così dovete voi che ci ascoltate in questo momento dovete imparare veramente a diffondere informazioni gratuitamente oppure anche a prezzi economici a volte anche diffondere informazioni a prezzi realmente economici può essere un'idea poi magari su questo faremo una puntata perché magari questo vi può tornare utile per avere immediatamente un piccolo ritorno sull'investimento pubblicitario nel senso che provate a diminuire l'investimento pubblicitario portarlo a zero per avere i famosi clienti a costo zero però questo è un concetto un po' diverso e lo affrontiamo un'altra volta è chiaro che non lo stiamo anche estremizzando non possiamo entrare nel singolo elemento però diciamo che in generale l'informazione quella è bisogna fare proprio questo cioè cercare di dare queste informazioni gratis a prezzo veramente molto basso e poi farvi pagare per la loro attuazione e qui infatti ora andiamo in una scala molto interessante secondo me che vi invito e ti invito a te che ci stai ascoltando in questo momento non so se stai in macchina o sul Tapiruland mi ricordo che c'è gente che ci segue sul Tapiruland oppure in macchina oppure a piedi insomma dove stai tu in questo momento c'è un po' una scala cioè il primo livello è quello delle informazioni e delle idee cosa vuol dire? vuol dire che il primo livello è quello che abbiamo detto ora diffondi le tue idee fai capire che tu ne sai che hai veramente tantissimo valore e quindi comincia a fare in modo che le persone ti riconoscano come la persona esperta di quel settore perché veramente dai delle buone idee diventi leader in qualche modo di pensiero di quella situazione il secondo elemento che è interessante sono proprio quegli elementi un po' i mattoni per costruire sono piccole cose potrebbero essere degli ebook potrebbero essere dei piccoli elementi a basso costo sono quegli elementi che ti servono per fare in modo che la persona si avvicini a te in un'aniera un po' più strutturata e quindi potrebbe essere anche un prodotto a basso costo potrebbe essere un prodotto da 20 euro da 40 euro oppure i 47 euro che piacciono a tutti i marketer cioè un prodotto veramente a basso costo che permette al tuo potenziale di cliente di scoprirti e di entrare in contatto con te in maniera più professionale senza dover fare un'impresa senza dover per forza superare uno scalino molto alto e quindi farsi prendere un po' dall'ansia e dire magari devo fare un investimento troppo alto e non sono ancora pronto il terzo livello è quello della supervisione e qui comincia a diventare un po' più interessante è un po' il concetto riprendiamo il concetto di dai le idee e poi farti pagare per la messa in pratica di quell'idea perché qui tu inizi come professionista a metterti a fianco al tuo potenziale cliente nella supervisione per fare in modo che il tuo cliente raggiunga quel risultato quindi potresti essere un consulente che lo aiuta a esaminare settimana per settimana mese per mese come sta andando potresti essere un personal trainer che lo segue potresti essere un esperto di qualunque cosa che si affianca al cliente e lo segue quindi è il cliente che cerca di applicare e portare a casa il risultato e tu sei lì a fare una supervisione e dire ok stai seguendo stai nella strada giusta stai andando nel modo giusto e così via poi gli ultimi due lascio a te la parola Giuseppe su questo perché sicuramente avrei molto da dire è fare insieme al cliente quindi ci mettiamo insieme e lavoriamo insieme e il terzo ed è quello forse più interessante ed è quello che poi alla fine il cliente vuole la maggior parte delle volte è fare per il cliente cioè a un certo punto tu gli hai detto che la marketing automation oppure qualsiasi altra cosa è la cosa migliore che serve a lui il cliente ha visto che deve configurare un software deve scrivere delle mail deve fare tutta una serie di cose a un certo punto magari ci prova anche cerca di capire cosa può fare poi a un certo punto dice guarda mi piacerebbe che tu lo facessi per me quindi sono disposto anche a pagarti x mila euro per mettere su tutta la mia infrastruttura di comunicazione automatica perché questo so che serve per il mio business perché insieme a te ho capito tante cose ho capito che questa roba qua mi serve però mentre io faccio il mio business vorrei che tu mi facessi questa parte e quindi il tu inizia a lavorare per ma come vedi è una scala e piano piano hai portato il tuo cliente a scoprirti avvicinarsi fino a credere in te avere fiducia in te e darti poi i soldi che ti servono per realizzare il suo obiettivo Giuseppe insomma come indossare un cappello un cappello che tu decidi una volta che hai capito che questo livello minimo di informazioni come dicevamo quindi per farti conoscere tutto il resto insomma questo leader di pensiero che tu citavi davanti a questo cliente che ti sceglie da quel momento poi tu decidi di indossare un cappello in base a quella che è stata la tua analisi delle persone che hai a che fare tu parlavi di la supervisione ma possiamo anche quello di fare insieme al cliente mi veniva ovviamente l'esempio più vicino a me che una persona deve preparare uno speech per poter portare a casa non lo so un finanziamento o vendere mentre sta parlando in pubblico allora in quel caso non posso farlo solo io ma lo faccio insieme al cliente quindi ci muoviamo di pari passo poi sul discorso invece di fare per il cliente che è la fase che tra l'altro distingue anche il modo lo dico ovviamente non si può fare una cosa del genere in un podcast e spiegarla però mi riferisco sempre ai dubbiose ai quelli fermi a quelle persone che dice non voglio parlare eccetera ma c'è anche un modo di comunicare di raccontare delle informazioni dove tu dai propriamente le spiegazioni a questo cliente di quello che deve fare potenziale cliente e tu hai paura hai paura perché potrebbero esserci dei clienti che probabilmente non verranno mai da te ma non verranno comunque mai da te e invece alcuni dove dicono bello quello che mi ha detto Massimo Petrucci mi sta raccontando di come si può creare una pagina per i lead però sai che cosa faccio io voglio sentirmi più sicuro più rassicurato quindi tocca anche a Massimo nel parlare nel comunicare di poter trasmettere questa sicurezza che è tutto collegato con i punti che abbiamo detto finora e quindi lui in quel caso il cliente alla fine dice sai che faccio beh chiamo gli dico Massimo senti per fare questa raccolta di lead eccetera cosa consigli per me cosa qual è e quindi lui attraverso la sua agenzia ti produce questo processo ed è tutto legato ad un fatto che comunque ci sono sempre elementi di relazione di sicurezza anche il fatto di informare una persona di quello che succederà perché quando io racconto queste informazioni rassicuro la persona che vorrebbe avvicinarsi a me perché sa come ragiono sa come mi muovo e quindi viene rassicurato anche da questo punto di vista una persona che va davanti a due avvocati dicevo prima lo stesso esempio di uno ho sentito sempre parlare mi ha creato questo effetto e ho capito mi ha raccontato più volte come segue un tipo di processo di causa l'ho visto l'ha raccontato e l'altro invece ha solo una porta con un'etichetta scritta avvocato chiaramente uno propenderà per l'altro per l'altro che quando abbiamo da lui ha creato tutto questo ecosistema tutto questo spazio che ci rende la vita più facile e sicuramente potrei aggiungere una parola che tanto appartiene alla prima puntata che è quello di rendere tutto più funzionale e più vicino a misura d'uomo esattamente proprio così per concludere questa parte qua in realtà quello che devi fare tu che ci stai ascoltando in questo momento è suddividere un po' la tua offerta di prodotti di servizi in idee supervisione e attuazione e se ci rifletti un po' più a sinistra ci sono quelle cose in cui al tuo cliente il tuo cliente deve metterci più energia perché nelle idee è chiaro che il tuo cliente deve stare lì se le deve leggere deve capire di cosa si tratta anche nella supervisione il tuo cliente deve entrare con la sua energia e quindi deve partecipare e quindi il prezzo come dire è inversamente proporzionale all'energia che ci mette il cliente nel capire o nel fare quello che deve fare per poter realizzare il suo obiettivo nella fase idee è tutto il cliente per cui il prezzo è zero nella fase supervisione magari è 50 e 50 quindi il prezzo è una via intermedia nella fase attuazione invece è la fase in cui sei tu a intervenire in maniera più forte e quindi la parte di energia del cliente è molto più bassa ridotta diciamo a lumicina quella in cui in questo caso il tuo prezzo può essere più alto quindi il concetto è che il valore si è spostato a questo punto dall'informazione alla sua attuazione e tu devi fare in modo che la tua offerta di prodotti e di servizi deve essere in grado di coprire un po' tutti questi aspetti idee supervisione e attuazione in modo tale che il tuo cliente possa avvicinarsi in maniera graduale fino ad arrivare al momento in cui è disposto a spendere più soldi con te e detto questo a questo punto direi che ci sta benissimo un veloce e fantastico riepilogo di Giuseppe Fran riepilogo un po' così e perché insomma è stato ridotto perché già tu hai fatto un mini riepilogo perché hai detto un'idea una supervisione un'attuazione e allora aggiungo la famosa immagine con cui siamo partiti questo passaggio che c'è di questo cliente in questa stanza ma può essere anche una strada decidi tu che questa questa persona passa per una volta davanti a questa strada tu hai il tuo negozio e la tua vetrina decidi come vuoi fare come vuoi organizzare questa vetrina in questa vetrina vuoi mettere delle idee e poi una volta che una persona ha quindi questa idea intesa come una luce si avvicina a te guarda quelle cose le osserva a quel punto decide di accedere di entrare a te quindi potrete attuare quello che tu hai fatto vedere se invece questa vetrina questo ecosistema non c'è non si vede nulla è chiaro che rimarrai chiuso e nessuno ti noterà è proprio così nella prossima puntata vedremo come essere diversi perché la parola chiave è diverso diverso non significa né migliore né peggiore significa diverso e la diversità paga paga tantissimo e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker inoltre su 667.agency slash podcast trovi link a video libri e a molte altre risorse grazie a tutti